Ben trovati in Ralti G della mobilità, ambiente e smog. Oggi e domani in fascia verde si firmano i veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 20.30, auto, benzina Euro 2, moto e motorini Euro 0 e Euro 1. Il provvedimento del Campidoglio si aggiunge alle limitazioni consuete dei veicoli inquinanti H24 in fascia verde. Le scatte in questo fine settimana e piano controlli per le feste natalizie. I vertici del Viminale hanno inviato una circolare ai prefetti e ai questori con la quale si chiede di attuare attente e coordinate misure di vigilanza sia nelle stazioni e nei porti degli aeroporti e nei terminal dei pullman. I controlli dovranno coinvolgere sia la polizia locale, polizia ferroviaria, stradale e saranno anche finalizzati a verificare il corretto utilizzo delle mascherine ed evitare assembramenti nei giorni in cui si prevede un esodo massiccio. Intanto nelle prossime ore il governo e le regioni definiranno il piano di restrizione e spostamenti. È tutto per questa edizione.